Cari bambini e care famiglie, abbiamo aperto il calendario insieme ai bambini e abbiamo trovato il pupazzo di neve. Ma questo calendario forse è un po' magico perché se guardo fuori dalla finestra nevica. Ecco la filastrocca. Pupazzo di neve. Bella la storia del pupazzo di neve che ebbe vita allegra anche se breve. Con due grandi neri bottoni gli han fatto due belli occhioni, il sorriso di sassolini, ha una sciarpa a quadrettini, per naso una carota o un rapanello, ha pure un grande cappello e una scopa o un rastrello. Grazie mille bambini per questi fantastici pupazzi di neve. Buona serata! Grazie a tutti! Grazie a tutti!